Come commento la legge della Fed, quale? Che ha fatto la Fed? Fed, io ho visto che la borsa è crollata un'altra volta. Fed, un altro incremento di tasso di interesse. Ah, madonna mia. Ah, madonna mia. Allora, premetto che non sono un esperto di politiche economiche, ovviamente, ma proprio neanche lontanamente. Un gut feeling da qualcuno che ha un po' di mestichezza con i numeri, ma non molto di più, è che sono stato sempre contento che l'America, poi ha guidato anche le altre nazioni, abbia un po' fatto il pugno duro, forse si erano un po' esagerati sotto Covid, col quantità di vising, con i tassi zero, stampati troppi soldi, cash is trash, troppi soldi in circolazione, hanno detto stringiamo un po' la cinghia, però hanno fatto la scala più rapida della storia, come crescita dei tassi di interesse, continuano a farlo per contrastare l'inflazione, però questo qui comincia ad essere un po' troppo. Cioè la Silicon Valley Bank è fallita per queste manovre, cioè senza aver fatto niente di sbagliato, avendo messo soldi in bond a lungo termine, quando i tassi erano bassi, ha fatto fallire, magari poi è uno anche responsabile se investe in bond trentennali a tasso zero, però una manovra del genere ha conseguenze, cioè troppo rapida, un altro quarto di... quanto sono la crescita di 5 punti in un anno e mezzo? Quanto highest in 16 anni? Wow! Hanno paura di trovare l'inflazione come a fine anni 70. Rischi amaro per maggio? Eh, maggio è già molto amaro. Non va bene, cioè come dire, nel breve periodo non va bene, diventa più appetibile investire in bond adesso, diventa meno appetibile investire in stocks, quindi magari questo farà crollare il prezzo delle stocks e farà aumentare il ritorno atteso dei bond, fa sì che molti più istituzionali non siano incentivati a avere rischio di capitale, quindi non fa bene al mercato azionario, anche perché prendere prestiti per le varie aziende è più costoso, però è una... però ok, va bene, cioè sopravviveremo, bisogna prendere in considerazione, bisogna non fare l'assunzione che le attuali condizioni sono quelle permanenti, bisogna guardare lo storico, gli ultimi cent'anni, cosa è successo negli ultimi cent'anni, cosa possiamo aspettarci, sono delle condizioni oggi e non saranno sempre le stesse. Facevo questa riflessione mentre guardavo il video del mio carissimo amico Ben Felix e del Rational Reminder Podcast di come molti prodotti e molte... non bisogna farsi affascinare dalle performance di alcune strategie che funzionano in certi ambienti e in certi momenti storici, ad esempio, quando i tassi erano zero, tutti parlavano della buy, borrow, die, no? Compra, 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 non fare mai withdraw, non vendere mai perché sennò paghi tasse, ma prendi i soldi in prestito con un Lombard Loan e vivi di quello e poi non paghi mai tasse. Eh, era bello sta strategia quando il Lombard Loan stava allo 0,7% anno, adesso il Lombard Loan sta al 5%, quindi nessuno parla più di questo qua. Covered Calls stanno andando molto di moda in questo periodo, io le facevo before it was cool, ma perché? Perché il mercato è piatto in leggera discesa, quindi hai un income e nessuno ha mai sucato al momento di prendersi la botta quando l'underline va molto su e devi venderlo al prezzo prestabilito, quindi questo è molto interessante, non legarsi al momento esatto storico, cioè le strategie alcune funzionano in un certa epoca, bisogna cercare di essere un po' sopra questo layer, ok? Momento astrologia. Pensi che ci sarà un nuovo consistente calo di mercato o l'anno sarà piuttosto piatto? Pura astrologia, voglio sapere che ne pensi. Onestamente è pura astrologia, perché tutti gli scenari sono possibili, tutti i scenari sono possibili. Quello più probabile è che da adesso si vada su, primo perché è sempre più probabile ti fare, come dire, il tre quarti degli anni finiscono in positivo, anche se qui abbiamo già un drift, cioè siamo già partiti con un più 5% rispetto all'inizio anno, per cui siamo già in positivo. Venendo da un anno piuttosto negativo, è più storicamente, dato che la storia ci ha dato un random walk che per motivi casuali, oppure no, ci ha dato una reversion to the mean, che non è affatto scontata nell'ipotesi random walk, se la reversion to the mean fa parte del nostro DNA, e quindi i mercati sono meno efficienti di quello che si crede, mi viene da pensare che o stiamo facendo la reversion to the mean adesso, e quindi tornando su una crescita che doveva essere più bassa di questa, oppure in realtà la crescita esponenziale ha un passo storico, continua, e quindi stando in drawdown, ci aspetta una reversion to the mean. Questo qui, non lo so, entrambi i scenari ragionevoli, e quindi anche ipotizzando una reversion to the mean, ci può essere un anno schifoso, o un anno positivo. La vedo difficile, non lo so, bacio della morte, vedo difficile che ci sia un crolli sostanziali. È vero che fa strano, perché tutte le tech stanno tagliando personale, gli earnings non sono andati benissimo, quindi può darsi pure che il mercato si sta tenendo, non sta crollando quanto dovrebbe, perché la gente si è imparata che deve fare buy and hold, quindi può darsi pure che entreremo in una, a me spaventa di più una stagnazione decennale o ventennale, quello spaventa di più. Un crash di per sé non mi spaventa più di tanto, quindi ben venga. Se devo scommettere, mi viene da scommettere che i mercati un po' rimbalzeranno verso l'alto, anche perché abbiamo appena avuto tanti peccati, tanti piccoli rialzi dei tassi della Fed, sta cosa non può continuare all'infinito, quindi o entriamo in un nuovo paradigma, e questo è vero sempre nel mondo finanziario, il mondo finanziario è sempre così, sembrano le condizioni, stavolta, this time is different, che sono le parole più pericolose nei mercati, quindi, attenzione, questo non era mai successo prima, quindi adesso entriamo in un nuovo paradigma, e poi invece no, si torna sempre a come era prima, come metagioco. Per cui la domanda è, stiamo in una fase in cui, non lo so, la Fed alzerà i tassi di interesse fino all'80%, l'inflazione andrà al 100%, oh mio Dio, oh mio Dio, probabilmente no, probabilmente stiamo in un livello di alto assoluto, non magari il picco dei tassi di interesse, però stiamo a un livello molto alto, storicamente il trend è andare verso il basso, negli ultimi 150 anni, quindi mi immagino che in questo momento, i tassi sono rialzati, potrebbe essere una roba temporanea, per confronteggiare l'inflazione, quando poi dovessero, semmai dovessero riabbassarli semi-brutalmente, il mercato schizzerà, per cui sono moderatamente fiducioso, dal punto di vista puramente astrologico. Sui lato fondamentali, mi chiedo, non lo so, c'è margine ancora per grandi creche, nel senso, con l'arrivo dell'automazione, spinta con chat GPT, con l'AI, con tutto quello che c'è in ballo, la produttività cresce, aumenterà, viene da pensare di sì, oppure no. Questo qui non ne ho la più pallida idea, vediamo da, non lo so, un paio di decadi in cui il tech ha dominato tutto, e sarà ancora così, sarà ancora così, saranno ancora le big tech, le più grandi aziende, o magari Energy, sarà più importante possedere risorse energetiche, o materie prime, quindi, non lo so, aziende che fanno chip, Nvidia diventerà la più grande azienda del mondo, non lo so, non lo so, sarà ancora tech a dominare, boh, non lo so, non lo so, non lo so, qualunque scenario sembra razionale. Ripeto, io credo, la mia best guess, è che ci sia una discreta ripresa, quest'anno e il prossimo, ma non mi stupirei, se andasse diversamente. ambientale, che si sono più grande, giocare, esempio,